Ben trovati un aggiornamento con la tendenza media e lunga scadenza giungono un po' conferme dai modelli su una possibile irruzione di aria molto fredda per il periodo dalla Russia dalla Scandinavia verso il cuore dell'Europa un po' come era stato anche fine febbraio quindi un sbilanciamento dell'anticiclone verso nord verso le isole britanniche Norvegia e Svezia e sul suo bordo orientale quindi il passaggio di masse d'aria più fredde direttamente appunto dalla Russia verso Balcani stati centrali e potrebbe però marginalmente ma qui la situazione ancora la tendenza molto incerta lambire anche le nostre regioni in primis l'arco alpino e tutte le regioni settentrionali da valutare per quanto riguarda l'Italia l'innesco ovviamente anche di zone di bassa pressione sul Mediterraneo con una vivace instabilità quindi che a tratti potrebbe risultare anche a carattere invernale ma i dettagli più precisi vista l'evoluzione molto incerta come sempre sull'app di Trebi Meteo o sul nostro sito web